E' sempre un orgoglio parlare del ben fatto in Italia, del Wild Down in Italy, quando coinvolge le nostre aziende. E ne deve essere fiero tutto lo staff della Trevi Benne di 90 Vicentina che ha realizzato l'HC250, una pinza da demolizione da record, probabilmente la più grande al mondo. Cinque mesi di lavorazione per un gigante di ingegneria e meccanica da quasi 30 tonnellate di peso. La fattura è 3 metri e 30, 400 tonnellate in punta che è un valore importante, perché dare 400 tonnellate di potenza in punta non è facile e quindi da lì chi se ne intende capisce che ci sono delle problematiche tecniche di un certo spessore. La natura della Trevi Benne è dimostrare che non ci sono limiti, abbiamo una conoscenza tale da poter accogliere qualsiasi sfida. Una richiesta straordinaria di un cliente estero che solo l'elevata progettualità di casa Trevi Benne ha saputo trasformare in fattibilità costruttiva che ha coinvolto anche il produttore dello scavatore. Anche il costruttore dell'escavatore, questo è un escavatore particolare, pesa 300 tonnellate con 1700 kilowatt di potenza, quindi parliamo di cose importanti. L'HC250 racchiude tutta la professionalità di una vera squadra che con emozione ha festeggiato questo nuovo record. È come un figlio, lo vedi nascere, lo devi crescere, lo devi anche, adesso sono curioso di velo lavorare perché dopo il risultato finale è la soddisfazione del cliente.